Vi dico cari amici che io sono stato anche limitato nella mia espressione giornalistica, non vi darò dettagli però hanno tentato di silenziarmi, non ci riusciranno, più faranno così e peggio sarà. Vi dico cari amici che io sono stato anche limitato nella mia espressione giornalistica, non vi darò dettagli però hanno tentato di silenziarmi, non ci riusciranno, più faranno così e peggio sarà. Vi dico cari amici che io sono stato anche limitato nella mia espressione giornalistica, non vi darò dettagli però hanno tentato di silenziarmi, non ci riusciranno, più faranno così e peggio sarà.